calma calma perché qui io divento di parte secondo la gazzetta dello sport ma anche secondo Bombermata perché la notizia l'avevo riportata sul mio instagram per chi non mi seguisse andatemi a seguire link in descrizione Nicolò Zagnolo potrebbe andare al Napoli in caso di non rinnovo bomba bomba a me io qui divento di parte perché mi piace Nicolò Zagnolo perché io amo il giocatore e dico che nel Napoli Spalletti farebbe benissimo ma andiamo con ordine come scrive la gazzetta dello sport ovviamente io registro un giorno prima se Zagnolo non dovesse rinnovare con la Roma il Napoli ci potrebbe provare pronti 30 milioni secondo la gazzetta dello sport in caso di un non rinnovo e Zagnolo sarebbe felice di andare al Napoli allora questa è la notizia della gazzetta dello sport io sul mio instagram ho scritto che il Napoli ha chiesto informazioni alla Roma per Nicolò Zagnolo e su una cosa sono totalmente d'accordo con la gazzetta sul fatto che Luciano Spalletti allena i giovani li allena molto bene e li fa overperformare per cui secondo me un giocatore come Zagnolo a Napoli farebbe i buchi per terra per come giocherebbe andiamo con ordine io dico di andare piano perché ne ho di cose da dire allora la notizia su Zagnolo è vera parto col dire questo che il Napoli ha in testa il colpo Zagnolo dopo che sia un colpo fattibile o no non è assolutamente cosa mia saperlo ovviamente lo vedremo con il tempo il Napoli ha in mente il colpo Zagnolo e Spalletti sarebbe felice di averlo avete visto Raspadori avete visto diversi giovani al Napoli cresciuti al top e un giocatore come Zagnolo messo a destra nel Napoli è il top diventerebbe il top allora Zagnolo ragazzi ha potenza corsa facilità nello scambiare con il giocatore che si trova al centro è un giocatore esplosivo dribbla capace di arrivare a tirare in posto e capace di trainare una squadra da solo è un giocatore a cui piace molto comunque la corsa nel verticale quelle sgasate che fa di contropiede immaginatevi vi dico solo questo immaginatevi Zagnolo Zagnolo o Simen o Quaraskelia immaginatevi solo questo attacco a tre io penso che penso che non ce ne sarebbe per nessuno penso che i difensori dovrebbero veramente stare attenti perché Zagnolo o Simen o Quaraskelia diventa un tridente che fa paura fa paura ragazzi fa paura farebbe paura questo tridente un'esplosività che ha Zagnolo Quaraskelia o Simen li conosciamo già nel Napoli ma uno come Zagnolo a Napoli farebbe benissimo ragazzi Zagnolo va mentalizzato prima di tutto deve essere al centro di un progetto io penso che Spalletti sarebbe bravissimo a fare questa cosa qui ma un giocatore come Zagnolo a Napoli per caratteristiche tattiche tecniche fisiche mentali di squadra cioè Zagnolo ragazzi al Napoli per come la vedo io combace al 100% cioè combace al 100% Zagnolo al Napoli è la vita ragazzi Zagnolo al Napoli secondo me io per come la vedo io a me Zagnolo è un giocatore che piace molto è un giocatore che deve assolutamente ritornare quello di prima perché comunque ci sono state due rotture di crociato ragazzi e non è così semplice tornare al top questo va detto non è al top fisicamente però c'è anche da dire che per chi ha visto le ultime partite della Roma questo ragazzo qui è l'unico che ha portato avanti la squadra perché adesso non è che voglio aprire una polemica ma la Roma ragazzi nelle ultime partite non so se vi ricordate col Torino anche con il Ludo Goretz io sono stato allo stadio a vederla non è che questa Roma attaccava chissà che la Roma con il Ludo Goretz stava 1-1 anzi perdeva 1-0 entra Zagnolo che si guadagna due rigori e segna Zagnolo la decide con il Ludo Goretz Zagnolo ragazzi era l'unico che attacca quando non c'è Di Bala la barca la porta avanti lui la baracca la dica avanti lui lì perché Pellerini e Abram in certe partite fanno vedere veramente poco e lui secondo me lì è di un'altra categoria per come la vedo io Zagnolo lì a Roma è di un'altra categoria strapotenza fisica il modo che ha di arrivare a tirare in posta Zagnolo ragazzi è clamoroso adesso non lo vedete magari che non è in forma fisicamente come al solito perché comunque ci sono stati questi infortuni pesanti Zagnolo ragazzi al Napoli secondo me sarebbe clamoroso Zagnolo inserito in un contesto di 4-3-3 ma anche di 4-2-3-1 diventa impossibile diventa benissimo diventa il top io sarei contentissimo il prezzo non è alto 30 milioni per Zagnolo non sono tantissimi il Napoli può permettersi di spenderli e poi ragazzi vorrei vedere anche i pro di questa operazione 23 anni 1,90m il contratto va a scade nel 2024 ne abbiamo già parlato è un giocatore che può fare il trequartista può fare l'ala destra può fare la seconda punta può fare di tutto questa stagione ha solo un gol in Serie A in 11 presenze pochi un gol solo e poco è un giocatore che finora non ha stupito chissà che però io non la vedo come una sua responsabilità ma la vedo anche come una mancanza totalmente di squadra perché comunque la Roma ragazzi attacca poco e purtroppo io vabbè non è che non sono così per chi mi conosce bene non vado così d'accordo con l'allenatore della Roma su tante cose che fa però penso si possa dedurre alle statistiche che Zagnolo per quello che crea per quello che corre per quello che fa diciamo che le statistiche sono al di sotto delle sue capacità questo è poco ma sicuro il Napoli con Zagnolo secondo me fa un salto in avanti e Zagnolo se devo collocarlo in una posizione al Napoli lo colloco a destra poi ovviamente è ovvio che se Zagnolo va a destra nel Napoli poi ci sarà un'uscita tra Lozano e Politano ma questo lo diciamo sempre come per qualsiasi entrata io penso che Zagnolo al Napoli sarebbe il colpo totale perché Zagnolo ha bisogno di un mentore Zagnolo ha bisogno di una persona che lo aiuti a migliorare non solo sul piano dei gol fisico ma anche sul piano mentale lo deve far rimanere costante io penso che Spalletti sia un allenatore che sa dare costanza ai giocatori Zagnolo è un giocatore che faceva una rissa partita che a volte rischiava anche di farsi cacciare perché si attaccava con i giocatori aveva la foca, aveva la rabbia e tutto Spalletti lo ha mentalizzato totalmente Zagnolo ragazzi Spalletti ha fatto un lavoro mentale su Simen che nemmeno immaginate non lo ha fatto solo su Simen, lo ha fatto su diversi giocatori che adesso stanno overperformando, stanno facendo benissimo Spalletti ha fatto un lavoro totale sullo vodka lo vodka ragazzi era sovrappeso non giocava, non correva Spalletti ragazzi l'ha fatto diventare il centrocampista più forte della Serie A ragazzi ma non è che Spalletti allora è stupido succede con Osimen, succede con lo vodka Spalletti ha mentalizzato diversi giocatori in positivo ha fatto crescere tantissimo la squadra Rachmani è stato mentalizzato in una maniera assurda e diventava un centrale favoloso e io penso a un giocatore come Zagnolo Spalletti gli possa solo far bene a un giocatore come Niccolò Zagnolo io spero che il messaggio lo abbiate capito per questo io approvo totalmente Zagnolo al Napoli lasciate un commento qui sotto anche per scrivere cosa ne pensate di un'operazione Zagnolo che secondo me sarebbe fantastica lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina fatevi sapere anche la vostra su Instagram mandandomi a seguire, link in descrizione dove trovate le notizie di calcio mercato tutti i giorni e comunque le notizie che ci sono che vi posso dare io vi ringrazio, un saluto al Bombermata per oggi è tutto forza Napoli sempre grazie a tutti